salve ragazzi bentornati sul canale di zio ivan andiamo avanti con super mario bros wonders e giochiamo nei panni di me medesimo anche qui che sto facendo dei test usando l'account di una mia vecchia amica allora abbiamo giocato con peach visto che ci stiamo facendo tutta la scaletta oggi si gioca con daisy let's go daisy allora ho qui davanti i vostri appunti a questo punto prima di proseguire io vorrei portare a termine le cose che mi avete suggerito vediamo allora riolu ciao riolu dice che nel livello degli spunzi resta fermo sul tubo col fiore ok devo capire in primis qual è il livello con gli spunzi quindi fatemi cercare poi c'è anche qualcosa da fare qui alle piante piragna eccoli qua spunzi e infatti ne manca una resta fermo sul tubo col fiore d'accordo allora entriamo e andiamo a cercare il tubo col fiore a ok era questo il livello forza daisy ok eccomi ragazzi ho fatto un taglio perché ho alzato un po la webcam abbiamo il fiore del fuoco quindi possiamo tenere testa a questi brutti e intanto approfittiamone anche sì per raccogliere monete fiore che visto che devo comprare tutti quanti i semi meraviglia meglio averne una bella scorta quindi mi ricordo che qui c'era un qualcosa da fare con questi tubi comunque non so se è proprio la cosa che mi ha suggerito riolu ma staremo a vedere comunque tubo con il fiore aspettate che c'è ecco qua bene intanto entriamo qui ok questi bonus sono andati dietro di noi in pratica quindi ci sono tre livelli intanto prendiamo daisy elefante anche lei è bellissima qui mi sembra che non c'era altro da fare giusto qui la moneta l'abbiamo già presa annaffiamo questa pianta giusto per avere qualche cos'era una vita qui sì quindi devo fare attenzione sì ok fatemi ammazzare questi ho visto dei bonus andare nella parte inferiore no per adesso per adesso qui non c'è altro andiamo a cercare il tubo con il fiore arcane sei mi sono fatto beccare anche questo bonus è andato sotto aspettate credo di esserci ok avevo visto bene la scorsa volta eccolo che succede ora cerchiamo di fare piazza pulita di questi rompiscatole eh no mi hanno colpito fungo grazie ma muoio se finisco lì sotto forse non mi conviene accopparli perché mi danno questi fiori moneta eccolo eccolo e vai preso è stato divertente sì molto quindi in pratica ho preso tutto qui non ho capito qual è il tubo col fiore ah forse entra nel tubo con il costume da fiore ragazzi non siete stati molto chiari in quel caso vabbè comunque l'importante è che ce l'ho fatta meraviglioso bisogna fare molta attenzione ce l'ha fatta e abbiamo preso il seme meraviglia che ci mancava bene così ok quindi questo l'abbiamo completato sì poi mi consigli anche sempre Riolu di usare le spille arancioni ed iride solo che no aspetta R eh come faccio a capire qual è quella iride per il momento sappiamo che queste sono quelle arancioni salto arrampicata qui abbiamo fungo automatico ricompensa io per il momento posso tenermi questo qui per adesso dopodiché eccola qua l'uscita nella parata delle piante tubo in alto a destra alla fine delle canzoni dopo il seme quindi andiamoci a fare questo livello qui che dovrebbe essere il secondo giusto no ecco questo qui va bene visto che il livello lo abbiamo già fatto io andrò direttamente alla fine quando e se riuscirò a trovare questo passaggio comunque i monetoni fiore anche se sono già stati recuperati conviene comunque prenderli perché ci vengono comunque aggiunti al numero delle monete fiori che abbiamo già quindi sì anche se li abbiamo già presi continuiamo a prenderli piante che camminano e se ne uccido se ne uccido non canta più nessuno non si interrompe un concerto ma vabbè ok ok sono arrivato uscita in parata piante tubo in alto a destra alla fine della canzone dopo il seme meraviglia eh non posso andare oltre la gatta ah ok si aspettate c'è un altro tubo qui beh è stato interessante forse questo non vorrei sbagliare beh è stato interessante fatemi controllare forse posso entrare in uno di questi avete detto dopo il seme meraviglia ma io nel dubbio ci provo lo stesso che si possa entrare qui no? ok niente andiamo avanti questi tubi non funzionano è stato interessante oh qui intanto ho trovato un'altra moneta ragazzi il tubo dopo il seme meraviglia eh io li sto provando tutti ma sono arrivato ma non ho trovato nulla ragazzi ho comunque preso tutto a meno che questo a meno che questo commento non me l'avevate scritto prima che risolvessi questo livello vabbè ok per ora credo di aver fatto tutto quello che c'era da fare fatemi dare una rapida occhiata eh sì per ora questa è la casa manca questo livello qui ah devo comprare andiamo il seme meraviglia giusto che non l'ho comprato? è infatti non lo avevo comprato ma rimedio subito e prendiamo anche qualche altra sacro ma vediamo cosa ci capita Luigi imposa queste potrei anche prenderle tutte all'ultimo sono 144 spero che non ci capitino anche i doppioni per ora va bene alla prossima grazie adesso io qui avevo fatto tutto giusto? sì sì e sì tutto fatto devo tornare oh grande devo tornare un attimo nel sotterraneo era lì che avevo lasciato era qui no no qui ancora no questo l'abbiamo fatto bene torniamo nel sotterraneo e andiamo avanti benissimo questo lo abbiamo fatto livello piazza pulita arena tubi rocciosi un seme vai facciamolo prova vari potenziamenti e spille per trovare nuovi modi di eliminare i nemici oh oh se elimini tutti i nemici la porta si aprirà più veloce finisci il livello più ricompense avrai puoi affrontare questa sfida anche insieme agli amici ok quindi ammazziamo tutti cosa devo fare? ah posso scegliere un potenziamento eh no vabbè è da qui che si va? ok ammazziamo tutti vai chi manca? c'è un gu oh qui sopra ancora sei ok la porta si è aperta proseguiamo oh ragazzi mi stanno abbandonando di Joy-Con porca miseria sto finendo la batteria dei Joy-Con vabbè vediamo quanto mi dura per il momento non ci facciamo ammazzare ecco l'ennesima ambulanza ci sono anche dei gusci che potrei usare avanti un'altra fatta posso portarmi dietro questo guscio? no oh mamma posso ucciderli no? mandiamoli tutti di sotto ok ancora due dai manca uno ok si è suicidato ci siamo va a uno due e tre moletoni grande e qui che cosa c'è? ah ok un seme meraviglia cioè quindi io ho fatto il punteggio migliore ragazzi per un secondo per un secondo ho fatto credo il punteggio migliore ma da paura yeah grande ok manca chiocciole sui tubi paludosi difficoltà tre let's go andiamo queste chioccioline sono fantastiche comunque chissà se posso entrare nei tubi no ok passiamo diventiamo Daisy Elefante ecco fatto posso prendere oh mio dio questo guscio immenso porca vacca quel tubo lo rompeva eh ah io ovviamente devo continuare a provare ad entrare nei tubi eh ma guarda questo spinge i tubi e se lo metto qui ecco qua lo abbiamo incastrato e dietro sono comparse delle monete posso entrare sì benone ah vai prima monetona aspetta ok ah no non posso però ho trovato una vita grande posso spostare questo tubo sì allora entriamo bello ok c'è una monetona arca vacca è pieno di chiocciole oh sempre un elefante come scorta infatti mi conviene usarlo perché qui c'è un fiore carichiamoci d'acqua continuano ad arrivare sì non si fermano vabbè quello che volevo prendere l'ho preso a quante monete siamo non lo so poi vediamo oh oh ah aspetta eh guarda questi due che si litigano no ho sbagliato dovevo mandarlo di là per agganciarlo tieni ce la faccio sì mi domando se questa qui è una caratteristica che ha soltanto il potenziamento dell'elefante o se possiamo spostare i tubi anche con il personaggio in condizioni normali niente le ho provate tutte le tubature vai elefante in scorta mi sembra che non ho dimenticato nulla per ora mi sembra poi ovviamente toccherà vedere a cose fatte qui c'è un tubo da spostare e vede aspettate lì c'è un tubo ho capito sì perché se io avessi spostato questo per prima sarebbe caduto in basso io invece lo metto qui e si incastra che succede ora c'è mancato poco eccolo dai prendiamo oh mamma tutte le monete possibili vai si oh questo va più veloce un tubo avrò sbagliato no ok qui c'è dovrebbe essere l'ultimo monetone eccellente tutte e tre dai rientriamo ah il naso prendiamo anche queste tre monete monete fiore ed eccolo ragazzi seme meraviglia per noi aspettate che qui c'è tutti i fiori che si abbassano ho fatto un errore sto rischiando grosso aspettate abbassiamoci wow era un'illusione praticamente opla meraviglioso concludiamo un altro livello fatto bellissime queste foto ok credo che abbiamo completato questa parte fatemi giusto controllare ma posso cadere lì nel veleno no sembra di no fatemi dare giusto un'occhiatina eh lo sapevo che c'era un'altra moneta qui ci siamo stati c'era capitan todd direi che ce ne possiamo andare abbiamo 25 ai monete fiore 25 semi meraviglia qui abbiamo fatto tutto qui sopra ah no questo dobbiamo fare a cavallo a cavallo a cavallo dei viceratobi difficoltà 4 dai siamo coraggiosi se hai difficoltà a finire un particolare livello fai una pausa e provane un altro ok forse è meglio andare prima che si uccidano ah aspetta no ok pensavo ci fosse un bonus oh subito ho un brutto presentimento che da questo muro sbuchi una mandria andiamo cavalchiamola come l'altra volta presa pongo bene aia ma sono fatto becca peccato no non ho preso quello ah e ho sbagliato di nuovo e di nuovo ah che miseria ok riproviamo mi piace oh sono piccolo ragazzi giusto non ho la spilla però i bonus arrivano quindi dai facciamocela opla ecco l'importante è colpire questa fungo e ci siamo niente non l'ho presa un'altra volta continuiamo mio dio stavo sbagliando ok è normale morire ragazzi voglio dire fino adesso è andata anche troppo bene poi qui del resto la difficoltà è elevata avanti persa una moneta non mi interessa questo mi serve da prendere presa stavolta si nooo maledizione per prendere quella moneta continuiamo così ce la farò continuiamo a tentare niente stavolta stavolta quello non l'ho preso vabbè pazienza quella l'abbiamo presa stavolta si ok stavolta ci siamo non so come si usano questi eh non li avevo mai usati mio dio pelo pelo pausa ok ragazzi piccola pausa non so se si è sentito ma mi hanno citofonato mia madre e mia sorella perché mi hanno portato ancora da scartare una locomotiva di legno è bellissima dopo la scarto ok rimettiamoci al lavoro eccoci qui spero di non perdere il filo se morirò sarà solo colpa loro proprio ecco proprio in un punto cruciale maledizione maledizione stava andando tutto bene ok beh se non altro adesso comunque le monete foglia le ho prese i monetoni da 10 li ho presi quindi teoricamente dovrei essere un po' più libero eh quello me l'ho preso vabbè evviva continuiamo a sbagliare niente sono piccolo fungo avanti oh mio dio attenzione oh mio dio preso ok non so se ho fatto la cosa giusta sicuramente lì c'è qualcos'altro da fare posso rientrare no però mi ha dato una monetina perché arrivi da là non era la direzione giusta aspetta un po' wow grande sempre esplorare ragazzi sempre esplorare ok mi serve l'elefante per andare lì perché devo abbattere quella parete e vabbè aspetta un po' tanto il livello devo rifarlo perché ora devo abbattere quella parete e vedere cosa c'è dietro sicuramente si prende un altro semi meraviglia intanto no li abbiamo presi ah li abbiamo presi entrambi eppure però c'è un passaggio segreto quindi tornerò a vedere anche se me lo da per completo devo sapere ci vediamo direttamente alla fine ok adesso devo muovermi no però mi sembra che il veleno qui terminava ci siamo ok il veleno si fermava grande andiamo di qui ce l'ho fatta grazie ho trovato la strada e ho preso anche meraviglioso così si fa e un altro semi meraviglia yes bello bello e si è sbloccato un altro percorso proprio come accadeva una volta ma è identico che cosa ci sarà gli estensi della foresta crepuscolo il problema ragazzi è che mi si sta esaurendo la batteria dei joycon quindi beh si sono a un livello discreto d'accordo allora per questo momento mi fermo qua spero vi sia piaciuto e che vi siate divertiti lasciatemi un like iscrivetevi al canale e commentatemi se ancora non l'avete fatto io interrompo e ci vediamo col prossimo gameplay ciao ragazzi abbraccione